... ... ... ... ... ... Ecco, manca anche un cavolo sopra la finestra e poi dopo siamo a posto, è vero? Ah, sarebbe un bel lavoro anche lì, dicami che... Ma perché cosa ti è successo? Voi sentite, la gal gruinda a domandare cosa a me è successo. La dice cosa a te è successo? Ma che gruignet la gal, ha detto tua madre! Tua madre! No, tua madre! Beh, è la nostra madre! Guarda quella là, quella là è un uragano, è un taramotto, guarda! Mi la vuoi più in casa mia, capi? Se la stacca mia ancora una giornata, guarda, azzurca l'aspettale! E poi fa dentro tanti tutti i pulpetti che li dà da mangiare al campo, non vederla più! Beh, ma cosa è successo stavolta qui? Ma ascolta, beh! Ma così drirano! Ah, se andrei a fare ginnastica, Rubina, parli gandi! Nel sed minga che col caldo le vene si da slattano! Eh? Fa pure ginnastica! Ma ho bisogno che ti fai, puttina! Ma piget! Anche a me lì che ti pare un legno! Anche a me piget che ti vengono un po' da scavezza, andemiti! Intanto, alla mamma che chi pensa, è vero? E cosa è successo stavolta qui ancora? La dice cosa a te è successo? Ma metto a siedere qui a tal cont'è cosa è successo! A dico a tua madre, beh! L'ha attaccato stamattina a quattro ore! Perché l'hanno preso la stufa e l'hanno preso voi a dormire! A dico a quattro ore! A tua madre l'ha semissi in la testa che l'ho il momento giusto per farla conserva! L'ha attaccato a giocare con di pgnatin, beh! Poi l'hanno preso il pgnatone e poi l'hanno preso il passavverdure! E poi la stai accorto che l'hanno preso il pgnatone! A dico a quattro ore l'hanno preso la nostra cambra da starmi morire! Perché l'ha portato a salmarca, è vero? Ho xilopsivo da sornire i più freschi! Chissà che... Sì... ... ... ...